E' questa nostra salve, a te la mamma. Madre senza colpa, madre amabile, madre ammirabile, madre del buon consiglio, medonigliore, vergine potente, vergine di storia, modella di vera pietà. O glorioso Padre nostro Domenico, che fosti esempio di penitenza e di castità, affinando il tuo corpo con macerazioni, digiuni e vedi. Ottienici la grazia di esercitare la virtù della penitenza, con impegno totale e di custodire la purezza del cuore, con una sensibilità permeata di vita nuova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Daci, oaci, il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri capitori, non ci indurre in un'azione, ma di un'azione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte, amici. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amici. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso, nell'ora della nostra morte, amici. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amici. San Domenico, prega per noi. O glorioso Padre nostro Domenico, che pieno di zelo per la salvezza delle anime, predicasti con assiduità la parola evangelica e fondasti l'ordine dei predicatori per la difesa della vera fede e per la conversione dei peccatori. Prega Dio per noi, affinché ci conceda la grazia di amare sinceramente i nostri fratelli e di aiutarli con preghiere e opere buone per la loro santificazione e la loro eterna salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie a tutti i nostri amici, rimetti a noi i nostri debiti come noi ripetiamo ai nostri debiti e non ci si nutre in testazione per il percorso dal mare a me. Ave. Lodate Dio, schiere peate del cielo, Lodate Dio, gente di tutta la terra, Cantate a Lui che l'universo creò, summa sapienza e splendore, lodate Dio, Padre che dona ogni bene. Buonasera a tutti e buona festa. Stasera la nostra comunità ha un'opasione di celebrare due feste, la festa di San Domenico e la festa degli anziani in cui noi onoriamo la signora Marsilio Concetta con affetto e con grande stima. In questa Santa Messa ricordiamo anche tutti i devoti e tutti quelli che tengono il nome di San Domenico, quelli che celebrano l'onomastico. Preghiamo che il Signore per l'intercessione di San Domenico ci benedica e ci accompagna e soprattutto il Signore ci aiuta a mettere i valori e le virtù di San Domenico in pratica nella nostra vita. Con queste intenzioni iniziamo questa Santa Messa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amico La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito Pari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Messa riconosciamo di essere peccatori. Amico Invochiamo la Divina Misericordia, il dono di grazie. Dio Ognipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amo Signore, che sei la pielezza di verità e di grazie, abbi pietà di noi. Signore, pietà Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci, abbi pietà di noi. Cristo, pietà Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Signore, pietà Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Signore, noi ti godiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, re del cielo, Dio Padre di potente, Signore figlio di genito di Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre. Signore, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo è il Santo, tu solo è il Signore, tu solo è l'Altissimo Gesù Cristo. Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, ame. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenne infatti di non sapere altro in mezzo a voi, se non Gesù Cristo. La mia predicazione non si basavano su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crucifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio di I, né mai entrare in cuore di uomo. Dio le ha preparate per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Parola di Dio Vengiamo grazie a Dio Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te, oh Signore In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù Ti seguirò dovunque tu vada E Gesù gli rispose Le volpi hanno le loro tane I uccelli del cielo I loro nidi Ma il figlio del uomo Non ha dove posare il capo A un altro disse Seguimi E costui rispose Signore Signore Permettemi di andare prima A seppellire mio padre Gli replicò Lascia che i morti seppelliscono i loro morti Tu invece va e annuncia il regno di Dio A Gesù gli rispose Nessuno che mette mano all'aratro E poi si volge indietro E adatto per il regno di Dio Parola del Signore Gloria a te, oh Cristo Cari fratelli e sorelle Oggi si festeggia San Domenico di Guzman Fondatore dell'ordine dei predicatori Anche si chiamano Domenicani San Domenico è forse uno dei più santi O uno dei santi più conosciuti Venerati insieme a San Francesco E' un uomo di grande preghiera E di intenso studio Ha un tenero affetto per la Madonna E lui è l'apostolo del Santo Rosario Viaggiando San Domenico Si rese conto di due enorme sfide Per la Chiesa del suo tempo La prima L'esistenza di popoli Non ancora conoscono Gesù e il Vangelo E la seconda Ravvivare la fede Nelle comunità cristiane E innamorata di Dio Non ebbe altra aspirazione Che la salvezza delle anime Il Papa Gregorio IX Ebbe a dire di lui Conosco un uomo Che sei qui in tutto E per tutti E queste parole Anche ci aiutano a comprendere Con la vita Lui ha vissuto Sulla terra Cari fratelli e sorelle La vita di San Domenico Ci incoraggia Incoraggia noi tutti Ad essere ferventi Della preghiera E coraggiosi a vivere la fede Domenico non si è scoraggiato E lasciato fermare Dalle difficoltà Inquantrate Nella predicazione Faccio la propria fede E deve dare La testimonianza Della fede Prima in famiglia Nel lavoro Nell'impegno sociale Anche nei momenti Di distensione E noi Guardiamo le persone anziane I nostri cari nonni In particolare Oggi Marsiglio Concetta Con affetto Con gratitudine E con ammirazione E loro sono Il Vangelo di San Luca Dove Maria Va in fretta Ad incontrare La sua parente Elisabetta Perché Quell'incontro È un incontro Fra Una giovane E un'anziana Quell'episodio Del Vangelo Ci Presenta Maria È molto giovane Elisabetta È anziana E Maria È andata Ad incontrare L'anziana Parente Elisabetta Stare con lei Certo Per aiutarla Ma soprattutto Per Imparare Da lei Che è Anziana Una saggezza Di vita La giovane Maria Ascoltava E custodiva Tutto Nel suo cuore La saggezza Di Elisabetta E Zaccaria Ha arricchito Il suo giovane Animo E questa È stata preziosa Per Maria Nel suo cammino Di donna Di sposa E di mamma Così la Vergine Maria Ci mostra La via La via Dell'incontro Tra i giovani E gli anziani Gli anziani Infatti Testimoniano Che anche Nelle prove Più difficili Non mai Bisogna Perdere fiducia In Dio In un futuro Un futuro Migliore La loro Maturità La loro saggezza E accumulata Negli anni Possono aiutare I più giovani Possono Trasmettere Con semplicità Ai più piccoli L'esperienza Della vita I valori Spirituali E culturali Di Una comunità E di un popolo Nonni e nonne La parola Grazie Non è abbastanza Basta Da parte di noi Per l'esempio Che offrite Di amore Di dedizione E di saggezza Continuate con coraggio A testimoniare Questi valori E giustamente Deve avere Un rapporto Un rapporto Profondo Fra gli anziani E giovani Per continuare Le tradizioni Per capire La storia Dei valori E delle virtù Di una società E di una comunità Una comunità Cristiana E una comunità Civile Cara Marsiglio Concetta E cari fratelli E sorelle E quest'ora Noi Diciamo A Marsiglio Concetta Anche a tutti i noni Nonni Noi vi accompagniamo Con la nostra preghiera E anche a voi Non dimenticatevi Di pregare per noi Di dare testimonianza Giorno per giorno Per costruire Una Bella comunità Un bel futuro Per tutti noi Amen Dio Padre onnipotente Creatore Creatore del cielo E della terra Tutte le cose Possibili E inquisit Giorno a tutti i nonni E di un solo Signore E di un solo Signore E di un figlio Di Dio Nato da tuo padre Dio di tutti i secoli Dio di Dio Dio di Dio Dio di Dio Di vero Di vero e di vero Generato Non creato Della stessa sostanza Del padre Dio di Dio di Dio Dio di Dio di Dio Dio di Dio Dio di Dio Dio di Dio 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 San Domenico Era parco di parole Apriva la bocca Solo per parlare Dio 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 Uniamoci Ora La sua voce E levando Insieme La nostra Fervida Preghiera E diciamo Padre Santo Ascoltaci Padre Santo Ascoltaci Dio Perché la chiesa Di oggi Si è visitata Da una nuova Feritura Di uomini santi Che portino speranza All'umanità Preghiamo Padre Santo Ascoltaci Perché comprendiamo Sull'esperienza Di San Domenico Che la vita cristiana Matura e responsabile Va accompagnata Ad uno studio Accurato e attento Della parola di Dio Preghiamo Padre Santo Ascoltaci Signore Gesù Si è stato riconosciuto Come Messia E Salvatore del mondo La Signore Ed Amma Che diviva La fede degli anziani E benedici La loro preghiera Perché trasmettono La sapienza della vita Alle nuove generazioni Preghiamo Padre Santo Ascoltaci Preghiamo Per le famiglie Che accolgono I loro anziani E sanno amarli E servirli Con umistà e pazienza Perché sappiano leggere Perché sappiano leggere In loro Il valore dell'esperienza Della sapienza E dell'operosità Preghiamo Padre Santo Ascoltaci Preghiamo Preghiamo In particolare Per tutti quelli Che sono provati Dall'età Dalla solitudine E dalla malattia Perché guardando A Gesù Con la forza Della fede Sappiano guardare Al futuro Con serenità Preghiamo Padre Santo Ascoltaci O Dio Nostro rifugio E nostra forza La vita Dei santi Ci fa sentire Piccoli E incapaci Ci sostenga La fiducia Nell'amore Ristoratore Del tuo figlio Gesù Che con te Viva Regna Nei secoli Dei secoli Amén Vogliamo Vivere Come Magia Irraggiungibile La Madre Amata Che Vinge Il mondo Con L'amore E Offrire Sempre La Tua Vita Che Viene Dal cielo Accetta Dalle Nostre Mani Come Un'offerta A te Gradita I Desideri D'oggi Il cuore Le Ansie Della Nostra Vita Vogliamo Vivere Signore Accesa Dalle Tue Parole Per Riportare In ogni Cuore La Fiamma Viva Del Tuo Amore Vogliamo Vivere Come Maria L'irraggiungibile La Madre Madre Amata Che Vinge Il mondo Con L'amore E Offrire Sempre La Tua Vita Che Viene Dal Cielo Pregate Pregate Fratelli E Sorelle Perché Questa Nostra Famiglia Radonata Nel Nome Di Cristo Posa Offrire Questo Sacrificio Gradito A Dio Padre Onnipotente Il Signore Riceve Dalle Tue Mani Questo Sacrificio Allora Glorie Del Suo Nome Per Il Bene Nostro Di Tutta La Santa Chiesa Accogli Con Bontà Signore Per L'intergestione Di San Domenico Le Preghere E Le Offerte Che Ti Presentiamo E Con La Forza Di Questo Sacrificio Conferma E Sostieni I Predicatori Del Vangelo Per Cristo Nostro Signore Amén Il Signore Sia Con Voi E Con Il Tuo Spirito In Alto I Nostri Cuori Sono Rivolta Al Signore Rendiamo Grazie Signore Nostro Dio E Cosa Buona E Giusta E Veramente Cosa Buona E Giusta Nostro Dovere Fonte Di Salvezza Rendere Grazie Sempre In Ogni Luogo A Te Dio Ogni Potente E Eterno Per Cristo Signore Nostro Nella festosa Assemblea Dei Santi Risplende La Tua Gloria E Il Loro Triunfo Celebra I Doni Della Tua Misericordia Nella Nella vita Di San Domenico Ci Offri Un Esempio Nell'intergestione Un Aiuto Nella Comunione Di Grazia Un Vincolo Di Amore Fraterno Confortati Della Sua Testimonianza Affrontiamo Il Buon Combattimento Della Fede Per Condividere Al Di La Morte La Stessa Corona Di Gloria Ora ti preghiamo Milmente Manda il tuo spirito A santificare I doni Che ti offriamo Perché Divendino Il corpo E il sangue Di Gesù Cristo Tuo figlio E nostro Signore Che ci ha Comandato Di Celebrare Questi Misteri Nella Notte In cui Fu tradito Egli Prese Il pane Ti rese Grazia Con La Preghiera Di Benedizione Lo Spenzò Lo Diede Ai Suoi Discepoli E Disse Prendete E Corpo Offerto Il Sacrificio Per Voi Preghiera Dopo la cena Allo stesso Allo stesso modo Prese il calice E Rese Grazie Lo diede Ai suoi Discepoli E disse Prendete Prendete E bevetene Tutti Questo è il calice Del mio sangue Per la nuova Ed eterna Alleanza Versato per voi E per tutti In Remissione Dei Peccati Fate Questo In Memoria Di Me Ascolta La Preghiera Di Questa Famiglia Che Hai Convocato Alla Tua Presenza Ricordati Del nostro Fratello Matteo Che Hai Chiamato A te Da questa Vita E Come Per il Battesimo L'hai Unito Alla Morte Di Cristo Tuo Figlio Così Rendilo Partecipe Della Sua Risurrezione Quando Farà Sorgere I morti Dalla Terra E Trasformerà Il nostro Corpo Mortale A Immagine Del suo Corpo Glorioso Accogli Nel tuo Regno I nostri Fratelli E Sorelle Defunti E Tutti I Giusti Che In Pace Con Te Hanno Lasciato Questo Mondo Concedi Anche A Noi Di Ritrovarci Insieme A Godere Della Tua Gloria Quando Asciugata Ogni Lacrima I Nostri Occhi Vedranno Il tuo Volto E Noi Saremo Simili A Te E Canteremo Per Sempre La Tua Lode In Cristo Nostro Signore Per Mezzo Del Quale Tuo Dio Doni Il mondo Ogni Bene Per Cristo Con Cristo E In Cristo A Te Dio Padre Onnipotente Nell'Unità 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 Spirito Santo Ogni Onore E Gloria Per Tutti I Secoli Dei Secoli Sia Sia Santificato Il tuo Nome Venga Il tuo Regno Sia Fatta La Tua Volontà Come Cere Così In Terra Darci Oggi Il nostro Pane Quotidiano Che Rimetta A Noi I Nostri Debiti Come Noi Rimettiamo Ai Nostri Debitori E Non Ci Indurre In Dendazione Ma Liberci Dal Male A Me Che Mi Ho La Potenza La Gloria Nei Secoli Signore Gesù Cristo Che Hai Detto Ai Tuoi Apostoli Vi Lascio La Pace Vi Do La Mia Pace Non Guardare I Nostri Peccati Ma Alla Fede Della Tua Chiesa E Dona Le Unità E Pace Secondo La Tua Volontà Tu Che Vivere Nei Secoli Dei Secoli La Pace E La Gioia Del Signore Siano Sempre Con Voi E Con Il Tuo Spirito Agnello Di Dio Che Togli Peccati Del Mondo Agri Pietà Di Noi Agnello Di Dio Che Togli Peccati Del Mondo Dona Lui La Pace Peati Li Invitati Alla Cena Del Signore Ecco L'Agnello Di Dio Che Toglie I Peccati Del Mondo Oh Signore Che Non Sono Degno Di Partecipare Alla Tomenza Ma Di Soltanto Una Parola E Dio Saro Salvato Soltanto Soltanto Tu sei la mia vita, altro io non o non Tu sei la mia strada, la mia verità Non avrò paura sai, se tu sei con me Io ti prego resta con me Credo in te Signore, nato da Maria Figlio eterno e santo, uomo come noi Morto per amore, viva in mezzo a noi Una cosa sola con il Padre e con i tuoi Fino a quando io lo so, tu ritornerai Per aprirci il regno di Dio Tu sei la mia pace, la mia libertà Niente nella vita ci separerà So che la tua mano forte non mi lascerà So che da ogni male tu mi libererai E nel tuo perdono vivrò Padre della vita, noi crediamo in te Figlio salvatore, noi speriamo in te Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi Tu da mille strade, gira tu in unità E per mille strade poi, dove tu vorrai Non respiro fino a quanto tu vorrai Non avrò paura sai, se tu sei con me Io ti prego resta con me In piedi e preghiamo per tutti gli anziani Preghiera alla Madonna per gli anziani Regina del Cielo, Madre di Gesù e Madre nostra Ti preghiamo per tutti gli anziani E per tutti quelli che grazie di Dio diventeranno anziani Fa che noi ed essi possiamo sempre benedire Dio Per la sua bontà E ringraziarlo per tutti i doni Che egli ha elargito nell'arco della nostra vita E che ancora vorrà donarci Ti chiediamo di intercedere presso la Santissima Trinità Perché gli anziani possano vivere in serenità e salute Perché tutti noi possiamo guardare agli anziani Sempre con simpatia Non li lasciamo mai soli Sia i nostri cari e sia chi non ha nessuno Li sappiamo ascoltare perché ogni vita Tutte le persone hanno sempre tanto da trasmettere agli altri E seppure in età avanzata Seppure nella difficoltà di situazione o di salute Possano mantenere una fede sempre più viva E rinnovate dallo Spirito Santo Possono essere sempre animate da Spirito nuovo Ed essere di aiuto agli altri Nei modi che Dio vorrà Ed essere testimoni del suo amore Che gli anziani possano trasmettere ai propri cari E a chi sta loro vicino Pace, serenità e amore Per chi è solo e abbandonato Che Dio gli stia sempre vicino e conforti E quando giungerà il momento di passare alla vera vita Ti preghiamo di coprirci col tuo manto di regina E di accompagnarci dentro l'amore che è Dio Maria, regina della pace Ave o Maria, piena di grazia e Signore con te Tu sei benedetta, pregona e benedetta Santa Maria, madre di Dio Prega per noi peccatori Adesso e nell'ora della nostra morte Santa Maria Assunta Prega per noi San Domenico Prega per noi Tutti i Santi Prega per noi A nome della nostra comunità Tantissimi auguri e complimenti Alla signora Marsiglio Concetta Dio la benedica Benedica la sua famiglia E benedica Le sue intenzioni per la sua vita E per gli altri E anche tantissimi auguri A tutti quelli che festeggiano Specialmente Quelli che celebrano il loro onamassico E tantissimi auguri anche alla nostra comunità Che ha una grande devozione a San Domenico Per l'intergestione di San Domenico Dio ci benedica Preghiamo O Dio che ci hai nutriti del pane e della vita Di vita eterna Nel ricordo glorioso di San Domenico Fa che la tua Chiesa Illuminata dalla sua predicazione E sostenuta dalle sue preghiere Raggiunga la piena comunione con te E Cristo E Cristo Nostro Signore Amén Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito Inchinatevi per la benedizione Dio Onnipotente Che ci ha riuniti per celebrare oggi La festa di San Domenico E la festa degli anziani Vi benedica e vi protegga E vi confermi nella sua pace Amén Cristo Signore Che ha manifestato in San Domenico La forza rinnovatrice della Pasqua Vi renda autentici testimoni Del suo Vangelo Amén Lo Spirito Santo Che in San Domenico Ci ha offerto un segno Di solidarietà fraterna Vi renda capace di attuare Una vera comunione di fede E di amore nella sua Chiesa Amén E la benedizione di Dio Onnipotente Padre, Figlio E Spirito Santo Discenda su di voi E con voi rimanga sempre Amén La gioia del Signore Sia la nostra forza Andiamo in pace E rendiamo grazie a Dio Di nuovo auguri a tutti Merigine immacolata Dolce e clemente via Ascolta del tuo popolo La prece che ti invia Buonasera a tutti Un saluto particolare alle persone anziane E ancora più particolare alle persone che convivano 90 anni Che questa sera sono rappresentate la signora Concetta E purtroppo non è puro venire da Giuseppe con Matteo Il fatto che festeggiamo i 90 anni di queste persone Non significa che festeggiamo soltanto loro Soltanto chi compie i 90 anni Festeggiamo le persone che sono nate pure prima E che abbiamo già festeggiato E rifesteggiamo il fatto che continuano a vivere Come festeggiamo le persone che Prossimamente faranno i 90 anni Ne avranno 85 Ne avranno 80 Non solo ma non festeggiamo pure Solo le persone che Vivono a Lupara La signora è residente a Lupara Con Matteo Provvederemo noi a recapitarglielo Ma festeggiamo tutti i cittadini che E nati a Lupara Purtroppo Sono emigrati E soprattutto Hanno scoperto Quanto è duro emigrare E quando sa di sale Come diceva D'Agliari ieri Quando sa di sale Lo scendere e salire Gli altri stali Quest'anno Il festeggiamento degli anziani E' in tono minore Pure gli altri anni E' pochissimo rispetto a quello Che voi meritate Quest'anno è ancora in tono Minore perché Per il virus E poiché sono vietati Gli assembramenti Non possiamo procedere Al banchetto Della cena Lo faremo l'anno prossimo Dicevo che Pure quando abbiamo festeggiato Con la cena Rispetto a voi E' sempre molto molto poco Voi meritereste Molto di più Io mi sento Inadeguato Rispetto a quello Che voi meritate Molto spesso Penso che Penso alla casa Per gli anziani Ci ho provato Più volte Se non è stata realizzata La colpa Non è la mia Questa non è la sede E' l'occasione Per parlare Di queste cose Però Ripeto Mi sento talmente Inadeguato Ad offrirvi Soltanto una targa O Ad offrirvi Soltanto Una cena Mentre voi Meritereste Molto molto Di più Io Vi prometto Che mi impegno Perché Diciamo La casa di riposo Se non è stata realizzata Non per colpa mia Possa essere realizzata La meritate La meritiamo Tutti quanti Vi ringrazio In nome della popolazione Di Lupara Per I tre quarti Di secolo Di secolo Che ci avete garantito Di pace Pure noi Abbiamo contribuito Per il progresso Che avete fatto Che avete fatto Fare ai vostri figli E alla popolazione In generale Ripeto La targa Vuole essere Soltanto un simbolo Per voi Per la signora Concetta Come per Con Matteo Alla quale Sarò io Di persona A ricavitare la targa Procediamo Alla consenna Mi avvicino io Mi avvicino io Signora Concetta C'è il dire Signora Concetta In occasione Della ricorrenza Dei suoi 90 anni La cittadinanza Di Lupara Ti ringrazio Per il contributo Dato Del sviluppo Della comunità Augurandoti Ancora Nunca vita Grazie A ancora Tanti Tanti anni A tutti gli anziani A tutti gli anziani Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie. Grazie.